Al mercato europeo di Piacenza si ha fame in tutti i momenti della giornata e qui c'è la possibilità di mangiare in ogni momento. Noi ci siamo fermati alla frigitoria Ligure, ovviamente il pesce non manca. Siamo con Riccardo. Riccardo, allora mamma mia, che profumino e che bontà, raccontaci. Allora noi veniamo direttamente da Genova e facciamo pesce fritto e polpo. Il polpo lo facciamo sia al piatto che nei panini insieme alle verdure. Panini al polpo, avete capito? Quindi il classico cibo da strada che ci consente quindi di assaggiare un piatto che solitamente invece si assaggia a seduti, camminando tranquillamente per strada e andando ovviamente a vedere questo lungo serpentone del mercato europeo con 154 banchi, 79 di food. E qui troviamo il food Ligure a base di pesce, ma non solo, vedo che ci sono acciughe infarinate, quelle impanate. Salate e ripiene, facciamo anche il panino con l'acciuga, abbiamo la cozza impeppata e le cozze fritte e ripiene. Va bene. Allora che altro aggiungere Riccardo? Li invitiamo a mangiare? Assolutamente sì, venite numerosi. Siamo a Piacenza, fino a domenica sera. Al mercato europeo. Ciao! Ciao!